Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo Parlando di Covid, come ogni settimana la regione siciliana ha diramato il consueto bollettino per fare il punto della situazione In Sicilia la conferma è che i nuovi contagi da Covid sono ancora in netto calo Vediamo tutti i dettagli nel bollettino Nella settimana dal 20 al 26 febbraio in Sicilia si è assistito ancora a un netto decremento delle nuove infezioni da Covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale I nuovi casi positivi diagnosticati sono stati 1.380-11,76% con un'incidenza di 29 casi ogni 100.000 abitanti Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Messina e Palermo Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 70 e i 79 anni I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della regione siciliana Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risulta non vaccinata Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 28 febbraio, dice il Dasoe Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,39% Sono 61.970 i bambini che risultano con ciclo primario completato, pari al 20,11% Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,99% I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,61% I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla sono ancora 1.120.658 I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.773.984 pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni Le somministrazioni di quarta dose sono 242.718 di cui 213.449 a soggetti over 60 Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.779 Ed ora la cronaca partendo dalla Trapanese per la precisione a Mazzara del Vallo dove si è verificato nella notte un terribile incidente un incidente mortale il bilancio purtroppo è pesante parla di un morto e due feriti un'auto con tre giovani a bordo non si è fermata a un posto di blocco della polizia tra le vie Salemi e della Pace la vettura, sfuggita dunque al controllo ha finito poi la sua fuga schiantandosi contro un muro per l'impatto l'auto si è accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre ragazzi dall'abitacolo uno di loro, una giovane di 20 anni, era purtroppo già deceduto gli altri due invece, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale intanto la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per cercare di far luce su questa vicenda e capire le motivazioni che hanno spinto il conducente di quest'auto a non fermarsi davanti alla polizia cambiamo argomento, ci spostiamo adesso nell'agrigentino furto in abitazione a Canicattì alcuni malviventi, dopo aver forzato un infisso ed essere entrati nell'edificio hanno aperto la cassaforte rubando una pistola completa di caricatore, 50 cartucce regolarmente detenuti e i gioielli presenti all'interno il furto è stato messo a segno in un immobile di proprietà di un commerciante cinquantenne ubicato in contrada Arci Taverna Santa Marta dopo aver fatto la mara scoperta lo stesso proprietario ha dato l'allarme chiamando i carabinieri i quali dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili notizia da Siracusa i carabinieri hanno tratto in arresto gli autori di alcuni attentati dinamitardi avvenuti in città ai danni di esercizi commerciali tre persone sono finite in manette altre sette sono invece indagate ed è stata anche disarticolata un'importante piazza di spaccio tutti i dettagli nel servizio catturati gli autori degli attentati dinamitardi in danno di tre esercizi commerciali di Siracusa nel settembre del 2021 in piena notte avevano posizionato bombe carta generando un forte allarme sociale in tutta la città gli indagati gestivano anche un'articolata piazza di spaccio aperta 24 ore su 24 sequestrata droga e materiale esplodente le indagini effettuate tramite attività di intercettazione audio video analisi di telecamere tabulati ed infine con riscontri e sequestri di materiale esplodente e sostanza stupefacente hanno consentito di individuare tutti i componenti della banda e di delinearne il ruolo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare di cui due in carcere e una ai domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti pluri pregiudicati di 41, 30 e 24 anni l'attività diretta e coordinata dalla procura della Repubblica di Siracusa ha così consentito di escludere che le azioni criminose fossero maturate nell'ambito del racket delle estorsioni identificando il momento invece nello scopo intimidatorio finalizzato a una dimostrazione di forza della banda che mirava ad ampliare il business criminale avviato poiché gli atti dinamitardi erano ritorsioni per presunti debiti di droga non saldati in particolare il mandante, rivelatosi essere il capo di una fiorente piazza di spaccio aveva incaricato l'esecutore di posizionare nei pressi degli ingressi delle attività delle vittime degli ordini esplosivi che a seguito di accertamenti tecnici del RIS di Messina sono stati considerati potenzialmente micidiali e hanno causato gravi danni sia alle strutture che alle auto parcheggiate nelle vicinanze Tali ordini erano stati dati perché nessuno doveva mancare di rispetto al gestore della piazza e tutti i clienti dovevano sapere che i debiti andavano saldati Inoltre è stato possibile contestare il sequestro di persona in almeno una circostanza La vittima, che aveva accumulato un debito consistente per sostanza stupefacente non pagata veniva rapita, percossa violentemente e minacciata con una pistola per costringerla all'immediato pagamento tramite denaro contante o lo svolgimento di lavori e servizi per la banda Le note azioni violente e spregiudicate dei tre arrestati hanno avuto un forte ascendente sui restanti sette indagati i quali, attratti dai facili guadagni e affascinati dalla metodologia criminale utilizzata dal capo e dai gregari si erano messi a disposizione per tenere aperta tutto il giorno la piazza di spaccio che fruttava quotidianamente circa 1000 euro la citata attività criminale è stata disarticolata al termine delle procedure investigative mediante anche ripetuti e continui interventi di pattuglie che di volta in volta denunciavano gli spacciatori identificavano gli acquirenti e sequestravano droga e denaro contante spaccio di droga a Giardini Naxos nel Messinese i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher il quale aveva trasformato la camera di un B&B dove alloggiava in un vero e proprio market della droga come detto però sono intervenuti i militari dell'arma i carabinieri della compagnia di Taormina con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi hanno arrestato un 51enne di Giardini Naxos per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti da tempo i carabinieri stavano monitorando i movimenti del 51enne noto alle forze dell'ordine per reati nell'ambito dello spaccio di droga nel circondario di Giardini Naxos all'esito di specifici servizi di osservazione e pedinamento i militari hanno accertato sistematici spostamenti che l'uomo effettuava dalla sua abitazione per recarsi presso un bed and breakfast del luogo da lui affittato per pochi mesi laddove un insolito movimento di persone aveva insospettito i carabinieri pertanto ritenendo che all'interno della struttura ricettiva monitorata potesse essere esercitata l'attività illecita di spaccio i militari dell'arma con il supporto dei cani del nucleo cinofili hanno eseguito una perquisizione all'interno della struttura, nelle camere in uso al 51enne i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio market della droga sono stati infatti rinvenuti oltre un chilo e mezzo di marijuana 750 grammi circa di hashish 35 grammi di cocaina e oltre 40 grammi della pericolosa droga sintetica commercialmente nota come ecstasy inoltre sono stati rinvenuti circa 50 grammi di sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione la droga inviata al RIS carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio è stata sequestrata e il 51enne tratto in arresto in flagranza di reato al vaglio dell'autorità giudiziaria anche la posizione della convivente trovata insieme all'arrestato è denunciata dai carabinieri per il medesimo reato la polizia di stato di vittoria siamo quindi nel ragusano ha tratto in arresto un vittoriese di 33 anni dando così esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di ragusa per scontare la pena complessiva di tre anni otto mesi e 29 giorni di reclusione l'uomo era stato condannato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti lesioni personali, danneggiamento, minaccia e porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere il tutto commesso tra il 2013 e il 2016 la sentenza di condanna è divenuta definitiva e pertanto il 33enne è stato raggiunto dall'ordine di esecuzione per l'espiazione della pena detentiva in carcere torniamo invece a occuparci delle indagini dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello finito in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso si è difeso così nel corso dell'interrogatorio di garanzia depositato al riesame non ho mai avuto contatti, ha dichiarato né diretti né indiretti né professionali né personali con questo soggetto che è stato identificato come Messina Denaro oltretutto, ha aggiunto, in questi tre anni ho condotto una vita monacale, casa, lavoro senza alcuna frequentazione in giro per Campobello nella maniera più assoluta per i PM invece Tumbarello avrebbe curato il boss durante la latitanza intestando farmaci e prescrizioni ad Andrea Bonafede il geometra che prestava l'identità al capo mafia pur sapendo però chi fosse realmente il paziente torniamo invece sull'omicidio avvenuto nei giorni scorsi ad ACI Sant'Antonio nel Catanese perché i carabinieri hanno fermato il presunto assassino su delega della procura distrettuale della Repubblica i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico del 33enne Antonino Cosentino di ACI Sant'Antonio con precedenti di polizia commerciante all'ingrosso di Pollame poiché gravemente indiziato di omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da sparo in relazione al fatto di sangue avvenuto nella serata del 27 febbraio scorso ad ACI Sant'Antonio al riguardo i militari operanti hanno raccolto un chiaro e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo supportato altresì dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza privata presenti sul luogo del delitto dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dalle risultanze dei rilievi eseguiti dalla sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Catania in tale contesto i carabinieri avrebbero accertato come Cosentino alle 19 circa di lunedì scorso alla guida della propria automobile di colore rosso dopo aver compiuto un giro di ricognizione avesse avvicinato Francesco Ilardi che si trovava sul marciapiede all'esterno di un circolo di caccia sito in via Vittorio Emanuele in quel frangente, nell'arco di pochissimi secondi il presunto killer dall'abitacolo del mezzo avrebbe esploso contro la vittima quattro colpi di pistola colpendola mortalmente con un proiettile nella zona lombare per poi darsi alla fuga e rendersi da quel momento irreperibile i rilievi effettuati sulla scena del crimine hanno consentito di rinvenire sull'asfalto i frammenti di quattro give tra cui quello con tracce di sangue che aveva oltrepassato il corpo di Ilardi le immediate indagini poste in essere dal nucleo investigativo di Catania supportato dai colleghi della compagnia di Acireale hanno sin da subito scandagliato la vita privata dell'assassinato al fine di comprendere le ragioni dell'omicidio e identificarne l'autore in quest'ottica è quindi emerso come la vittima anch'essa commerciante di Pollame alcuni mesi addietro si fosse separata dal socio per mettersi in proprio circostanza che avrebbe determinato un forte astio nei suoi confronti da parte del figlio dell'ex collega di lavoro le ricerche pertanto, indirizzatesi in questo senso hanno permesso di rintracciare la vettura utilizzata dal presunto assassino di proprietà di Cosentino al cui interno, attraverso esami tecnici di natura speditiva sono state trovate tracce di polvere da sparo è stato pertanto messo in campo un imponente dispositivo di uomini e mezzi dell'arma coordinati dalle varie centrali operative per assicurare quanto prima alla giustizia il presunto colpevole le ricerche si sono concluse quando la gazzella ha bloccato Cosentino mentre stava percorrendo a bordo di un'autovettura Viale Giuffrida a Catania insieme al padre e all'avvocato verosimilmente perché avrebbe avuto l'intenzione di costituirsi sono attivamente in corso le ricerche dell'arma utilizzata per l'omicidio E' tutto, chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 Grazie a tutti